Ci sia il nulla Mio fratello è convinto che dopo la morte ci sia il nulla. Allora perché è onesto? Perché cerca di aiutare gli altri ogni volta che può? Commento. Perché non può farne a meno? Perché la sua coscienza, non la sua mente, sente che dopo la morte fisica non esiste il nulla, perché la sua è scienza raggiunta.